calmati adesso scendi su questa terra e fai il bravo bambino d'accordo signor mechi ecco così bravo fermo e agganciati quel microfono per favore così possiamo cominciare per me è molto difficile fatico il doppio degli altri metti in conto incontro una fighetta che voglio ripassarmi quella sa tutto di me e dei miei espedienti delle mie tecniche capisci vuole mettermelo nel culo e poi andare dalle sue amiche dire bla 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 frink 3g mechi non è niente di speciale non vale un cazzo non mi è coinvolto perciò devo essere devo essere un fulmine predatore un rapace che sfreccia scarto a sinistra scarto a destra per evitare di avere i proiettili di queste terroriste femmine bellezza